Viva e viva, veramente viva pure per il nostro Francesco La Rosa, un grande video operatore catanese, già vincitore di numerosi premi in Italia e all'estero. E' stato premiato venerdì scorso al Montecatini International Short Film Festival 2003. Bravissimo! A Francesco è stato assegnato il premio per il miglior montaggio video per la creazione docufilm Umanamente Totò, poi il comico di Alberto De Marco. Ciao Alberto che ci sta ascoltando appunto da Salerno. Il film selezionato ufficialmente nella sezione Bio e Arts a cura della dottoressa Laura Villani è stato proiettato venerdì 20 ottobre presso la Sala Portoghesi e dopo le ore 21 è seguita la premiazione. In realtà è stata una splendida doppietta dichiara il videomeca catanese in quanto oltre al premio di sua appartenenza viene assegnato all'opera pure il premio per la migliore regia che andrà al presidente dell'associazione Amici di Totò a prescindere onlus all'avvocato Alberto De Marco. Wow Alberto De Marco complimenti! Grande soddisfazione per Francesco La Rosa nonostante non sia stato presente alla premiazione per motivi personali per questo la stessa produzione ha ritirato il premio Francesco La Rosa ritirato appunto dal dottor Salvatore Speziale sempre facente parte della produzione. Allora so che al nostro Francesco La Rosa piace la canzone di Meneskin e la canzone appunto si intitola Zitti e Buoni. Allora Zitti e Buoni andiamo ad ascoltare Meneskin con la canzone appunto Zitti e Buoni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!